Finalmente sostenuta da generosi sponsor privati e dal Comune di Pescara, è pronta a partire la 46esima edizione della Flaiano Film Festival. Nei giorni scorsi sono state presentate le iniziative della Fondazione Edoardo Tiboni legate ai premi letterari. Oggi invece il Presidente Carla Tiboni e il Direttore Artistico della Flaiano Film Festival Riccardo Milani hanno posto l'accento sulle proiezioni cinematografiche. C'è ancora tempo per il 50esimo anniversario dei premi Flaiano? Ci si sta già lavorando? Sì, anche quest'anno c'è la direzione artistica di Riccardo Milani che evidentemente è il valore aggiunto della 46esima edizione del Flaiano Film Festival. Festival che si preannuncia molto interessante, ricco di film, quattro sezioni, una sezione di film in lingua originale. È una necessità anche di chi ama il cinema confrontarsi con i film in lingua originale. Siamo contenti di com'è andata, dobbiamo evidentemente consolidare quei numeri e rilanciare perché lo possiamo fare, perché io ho sempre sostenuto che il divario che c'è tra festival e pubblico debba essere colmato. È un piccolo tentativo che stiamo facendo, evidentemente i risultati vanno raccolti negli anni, è un primo anno che è andato bene, l'omaggio a Carlo Vanzina va in questa direzione. Perché personalmente credo che Carlo abbia dato tantissimo all'industria cinematografica e penso che questo gli vada riconosciuto anche il fatto di aver saputo parlare dei difetti di questo paese, anche a volte mostrandoli in maniera diretta alle persone che vedevano i suoi film. Un festival popolare, dunque non spocchioso, con l'omaggio a Vanzina, ma anche un festival che guarda la nuova cinematografia. In particolare, lei diceva, rispetto ai giovani italiani, hanno, come dire, assunto la consapevolezza, la capacità di parlare al pubblico e quindi eliminando forse quel tocco così magari di incomprensibilità che diventava quasi un po' vezzo. Sì, diventava improvvisamente una qualità. Ecco, l'incomprensibilità spesso non fa bene. Non fa bene a un mezzo di espressione come il cinema. Le opere che presentiamo sono film importanti. Sono opere prime che hanno già ricevuto riconoscimenti, che sono state candidate ai maggiori premi italiani. Posso chiederle dei film usciti quest'anno? Qual è quello che ha amato di più? Ho amato molto il film di Almodovar, ma perché quel modo di raccontare gli esseri umani mi piaceva molto. Che per chi l'avesse perso può vederlo al festival? Può vederlo al festival, evidentemente, certo. Per chi l'avesse perso.